La Melograno Art Gallery La Melograno Art Gallery Il premio e il costo delle esposizioni, che impegneranno la galleria per settimane. Il costo è 25 euro per un'opera, 40 per due, e 50 per tre opere, che saranno in ogni caso esposte nelle rassegne preliminari, cioè le mostre che precedono la finale con l'assegnazione del premio. Grazie 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 Grazie